Due ergastoli e oltre 100 anni di reclusione per sé imputati, tre le assoluzioni e la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria nel processo nato dall'operazione antimafia Confine, scattata l'8 agosto 2012 e che mira a far luce sull'omicidio del boss di Sarra San Bruno, Damiano Vallelunga, freddato il 27 novembre del 2009 nei pressi del santuario di Riace, nell'ambito di una guerra di mafia che ha toccato i clan delle province di Vibbo Valencia, Catanzaro e Reggio Calabria. Ergastolo confermato per Vincenzo Gallace, ritenuto il boss di Guardavalle, e per Cosimo Leuzzi, ritenuto il boss di Stignano, 21 anni e 6 mesi per Andrè Sottire di Stignano e 12 anni per il pentito Antonino pelnome, quindi altre 4 condanne, appena variabile da 17 ai 19 anni di carcere per altri 4 imputati. L'omicidio di Damiano Vallelunga ha rappresentato il punto più alto dello scontro fra i locali di Andrangheta di Guardavalle, Monasterace e Stignano, contro quello di Sarra San Bruno. Damiano Vallelunga avrebbe pagato con la vita la sua alleanza con il boss Carmelo Novella, che da Guardavalle superiore si era trasferito in Lombardia con il proposito di formare una nuova struttura di Andrangheta, totalmente sganciata dalla casa madre calabrese. Un proposito fermato con una lunga scie di sangue all'epilogo di uno sconto fra clan con pochi precedenti in Calabria. Giuseppe Baglivo per la CNews24.